Prego, mi dica i caz... gli affari suoi. Vede, io sono una persona che si distrae facilmente. Pronto? Sì, domani alle 5. Perfetto, me lo segno subito. Sì, a domani. Dicevo, sono una persona che si distrae molto facilmente. Ma qua... Pronto? Ne parliamo domani, esatto. Tanto lei ha l'appuntamento alle 5, giusto? Alle 5. Devo richiamare l'altro cliente perché... No, no, lei non cambia niente. Alle 5 domani, perfetto signora. Salve, arrivederla, arrivederla. Lei continui pure intanto, eh? Stavo dicendo che sono il tipo che si distrae molto facilmente. Buonasera, sono lo psicologo, abbiamo parlato pochi minuti fa. Sì, mi scusi, guardi, c'è stato un disguido. Purtroppo domani alle 5 ho già un appuntamento. Per lei va bene lo stesso alle 6? Perfetto, a domani. A domani. Salve. Stavo tentando di dirle che sono una persona che si distrae facilmente, però pure lei mica scherza, eh? Ha ragione, sono desolato. Lei più che desolato mi sembra disorganizzato, ecco. Lei crede che io sia disorganizzato? Perché non utilizza Mr. Call? Lei crede che dovrei utilizzarlo? Può uscire un attimo dalla modalità psicologo, per favore? Le sto dando un consiglio serio. Deformazione professionale. Sono tutto orecchi. Che cos'è questo Mr. Call? È il nuovo assistente virtuale che risponde a tutte le chiamate a cui non puoi o non vuoi rispondere. E poi ti manda tutta la trascrizione dei messaggi. Costa molto meno di una seduta con lei. Può gestire fino a 500 chiamate. Inoltre è così intelligente che farà sentire a proprio agio i suoi clienti. Molto meglio di lei. Grazie. Grazie. Grazie.